La cooperativa Latte Arborea In Arborea si fondano tradizione e innovazione La tradizione dei nostri valori, in particolare i valori dell'essere cooperativa L'innovazione di impianti Gli impianti nostri sono tra i più avanzati tecnologicamente di processo ma anche di prodotto Basti pensare all'ultimo nato nella famiglia Arborea, il whey Una bevanda base di siero alimentare che è ideale per le sue caratteristiche nutrizionali per gli sportivi Per soddisfare le mutate strategie commerciali ci siamo posti l'obiettivo di integrare L'attuale soluzione di tentata vendita con la gestione della raccolta ordini Il merchandising e il pagamento mobile post Per questo si è resa necessaria una soluzione di mobile working Che ci ha permesso di ottenere il 100% dei documenti digitali Con un'evidente riduzione dei costi di gestione e un maggiore controllo Tra poco anche i pagamenti diventeranno mobile Grazie al mobile post, uno strumento che consente di efficientare il processo di vendita Prendendo possibili i pagamenti in mobilità senza l'utilizzo dei contanti Tutto questo grazie alla collaborazione di Vodafone Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!